ciao a tutti oggi vi voglio recensire questa fantastica replica di una single action army 45 della colt di casa umarex vi spiego subito questa pistola come voi sapete è a colpo singolo come si usava nel lontano west abbastanza reale robusta fedele all'originale tra l'altro nel funzionamento nell'estetica che appunto per gli amanti del genere ci riporta indietro alla mitica single action army come potete vedere questa replica è fatta molto bene come vi dicevo prima e presenta tutti i loghi della sorella vera è una pistola co2 si smotta da qui la bomboletta si inserisce nell'apposito mano la guancetta funge anche da chiavino di serraggio della bomboletta una volta serrato si inserisce la guancetta al posto suo e ricaricare è molto facile bisogna caricare i bossoli che fra l'altro sono fatti in maniera abbastanza realistico una volta caricato il pallino all'interno di questo foro si va ad inserirlo nel tamburo uno per volta ecco fatto la pistola è pronta a sparare è fatta molto bene che dire la pistola è diciamo è un'arma soft air di libera vendita realizzata in full metal direi molto molto robusta presenta i tipici segni della bruciatura e diciamo che riporta un po tipo l'invecchiamento dell'arma vera e propria funziona esattamente come la sorella vera diciamo colpo singolo che è questo è diciamo tipo doppia azione ciao